Ciao a tutti e bentornati, sono Paola Reggiani e in questo nuovo video non sto più nella pelle, ho tanta voglia di parlarvi di un testo letterario per me importantissimo per l'avvio allo studio della Divina Commedia. Sto parlando dell'epistola cangrande della Scala che scrive Dante, un'epistola che secondo gli studiosi Dante avrebbe scritto probabilmente tra il 1315 e il 1317. Questa lettera mi piace particolarmente, di solito la suggerisco ai miei studenti, non solo perché così si capisce chiaramente il dedicatario del poema e cioè il Signore di Verona, ma anche per tutta una serie di informazioni che l'epistola dà sul poema. Allora adesso proveremo ad affrontarla e a studiarla insieme. Ai miei studenti di solito consiglio di suddividerla in una serie di macrotemi, quindi a lato tiratevi con la matita una serie di linee che corrispondano a diversi paragrafi. I grandi temi di cui parla l'epistola sono 1. Il tipo di lettura che bisogna fare dell'opera, in particolare mi soffermerò sulla lettura letterale e su quella allegorica dell'opera. 2. L'argomento di cosa parla il poema. 3. La struttura e cioè come il poema è organizzato. L'origine del titolo divina commedia, la lingua in cui il poema viene scritto e poi lo scopo dell'opera. Direi di partire da qui, visto che sono davanti proprio al punto 6, lo sono scritta così, lo scopo, che in base al manuale che sto utilizzando troviamo tra le righe 51 e 54. In queste righe Dante dice, bando alle ciance, dello scopo di quest'opera si potrebbero dire tante cose, ma in realtà ciò che è davvero importante è che quest'opera, secondo Dante appunto, deve portare gli uomini alla salvezza, mostrare loro ciò che c'è nei regni dell'aldilà, aiutarli a liberarsi dai peccati. Dante infatti sappiamo che si fa rappresentante di tutta l'umanità e i peccatori che incontra, per esempio all'inferno, sono tutti rappresentanti di categorie di peccatori che si trovano sulla terra e in parte di cui anche Dante fa parte. Ci ricordiamo per esempio l'empatia che prova il sostruggimento di fronte a Paolo e Francesca, o alla paura che ha di fronte alle tre fiere nel primo canto, lussuria, avarizia, superbia. Dante è un uomo, un uomo che si fa rappresentante però dell'umanità e intraprende questo viaggio per liberare non solo se stesso ma tutti e indicare se vogliamo la retta via. D'altra parte lui stesso scrive il fine del tutto e della parte è togliere dallo stato di miserie viventi in questa vita e condurli allo stato della felicità. Il punto 5 invece è quello che Dante dedica alla lingua e qui le righe sono tra la 46 e la 50. Dante dice che il modo con cui si esprime è dimesso e umile perché utilizza la lingua volgare, cioè la lingua del volgo, comprensibile a tutti. Quella dice in cui comunicano anche le donnette, cioè che tutti conoscono. Quindi, ma lo sappiamo già, infatti io uso la lettera cangrande della scala per sottolineare i temi chiave, le caratteristiche chiave proprio della Divina Commedia. La lingua è il volgare, la lingua del vulgus, cioè del popolo. Lingua rispetto alla quale Dante si era già speso, ci ricordiamo il De vulgari eloquenzia, il trattato che lui scrive sull'eloquenzia, cioè sulla forza del volgare. Poi c'è la parte legata al titolo, Divina Commedia. Dante qui fa una distinzione, parla di tragedia e comedia, così come erano intese in età medievale, e spiega il perché la sua scelta verso il titolo Commedia, che poi sappiamo è stato arricchito successivamente da Boccaccio, grande stimatore di Dante, aveva scritto anche il trattatello e il laude di Dante. Boccaccio stesso definisce la Commedia di Dante divina, sia per questioni stilistiche, scritta divinamente, sia per questioni di contenuto, cioè l'attraversamento dei tre regni oltremondani e quindi la materia trascendentale, no? Divina l'argomento. Comunque sia, Dante spiega, che ha scelto di chiamare la sua opera, non ispirandosi alla tragedia, ma alla comedia, Commedia, che per statuto è qualcosa che inizia in modo un po' rucambolesco e ha però poi un lieto fine. Oltretutto sappiamo che la tragedia utilizzava un lessico elevato, uno stile più elevato, mentre invece la comedia utilizzava uno stile mediano, se così si può dire, e infatti Dante di quello si serve, perché sappiamo che nell'inferno dantesco viene utilizzato un lessico ed uno stile più basso, si parla di argomenti più triviali, ci sono anche parolacce banalmente, mentre invece via via che si sale, lo stile diventa più aulico, più complesso, più difficile, complesso proprio perché deve rappresentare la complessità del paradiso. Per ciò che riguarda la struttura, la struttura la troviamo tra le righe 24 e 29 della mia versione, anzi addirittura io l'ho ristretta 24, 25, 26, 27. Qui spiega che ci sono tre cantiche, inferno, purgatorio, paradiso, che ciascuna cantica è divisa a propria volta in canti, che sono a propria volta 33 in ciascuna cantica, tranne l'inferno che ne ha 34 perché è il canto premiale e poi spiega che ogni canto è diviso in terzine, cioè in raggruppamenti degli indecasillabi di tre in tre. Possiamo anche aggiungere che le terzine dantesche sono a rima incatenata e proprio da Dante questo tipo di rima prende il nome di rima dantesca. Infine il punto secondo è quello dell'argomento, va dalle righe 16 alla riga 23 e Dante dice l'argomento, se lo prendiamo letteralmente, è la vita delle anime, cosa succede alle anime dei defunti dopo appunto la morte. Però se si interpreta il contenuto in via allegorica, l'argomento di cui parla l'opera è l'uomo che gode del libero arbitrio e può decidere liberamente se agire in funzione del bene oppure del male, consapevole poi di quello che si troverà di fronte una volta trapassato e quindi quelli che Dante definisce giusto premio o giusto castigo, seconda chiaramente di dove andrà a finire l'anima. E per la fine ho lasciato l'ultimo punto, quello della lettura su più livelli che si può fare dell'opera. La spiegazione di Dante è più complessa, io ve la semplifico, di solito mi piace identificare due tipi di letture, anche un po' per semplificare l'argomento. La lettura letterale e cioè ciò che leggiamo, Dante si sveglia, Dante che si ritrova in un bosco scuro, non sa come uscirne, tenta di risalire, la collina ma ci sono tre belve davanti a lui. E invece la lettura allegorica, quella che in età medievale è frequentissima, quella che ci impone di leggere al di là delle cose, perché le cose sono simbolo di qualcosa di più grande e quindi la selva oscura come allegoria di peccato, il colle illuminato dal sole come allegoria di Dio e della salvezza, le tre fiere come allegoria dei peccati che attanagliano non solo Dante ma tutti gli uomini, li ho già citati prima, superbia, lussuria, avarizia e via così. Quindi attenzione, ci dice Dante, quando leggete la Divina Commedia dovete leggere su più livelli, attivare come dire tutti i vostri sensi, non limitarvi solo a capire quello che leggete, cercate di andare anche al di là di cosa si fa simbolo ogni elemento che troviamo all'interno del poema. E anche questo contribuisce a rendere la Divina Commedia un testo ricchissimo, molto interessante, da scoprire ad ogni lettura, perché ad ogni lettura si possono intuire e decifrare significati altri che Dante secoli e secoli fa ci ha regalato e che restano ancora per noi oggi estremamente preziosi.